bene buonasera a tutti allora possiamo iniziare come solito facciamo con una preghiera che ci introduca nella lettura e nell'ascolto della parola nel nome del padre del figlio dello spirito santo o signore noi ti ringraziamo perché ci raduni alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola in essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà fatta c'era in noi ogni altra voce che non sia la tua te lo chiediamo per cristo nostro unico signore amen bene già allora abbiamo avuto un po di saluti e informazioni da parte mia vorrei oltre appunto al saluto e la gioia di condividere ancora un percorso ci pensavo un po salendo anche un pensiero a don giuseppe che è sempre stato tra i più fedeli partecipanti a questi questi incontri del percorso biblico che ci guarda sicuramente intercede quindi dentro questa vita di comunità quest'anno come diceva don michele l'attenzione cadrà su due capitoli gli ultimi due capitoli del vangelo di giovanni questi famigerati o famosi incontri pasquali di fatto sono la lettura di giovanni capitolo 20 e capitolo 21 allora prima di entrare nella scheda che avete lì spenso tutti abbiate sotto mano questo questo foglio perfetto cosa meno possiamo seguirlo e andiamo via belli tranquilli anche così si capisce quando si gira la pagina che si è a metà e c'è questi belli accorgimenti pratici però prima di leggere il brano della maddalena questa sera mi sembrano importanti due premesse dunque la prima se volete un po di carattere generale proprio sul vangelo di giovanni dai dagli ultimi capitoli noi estraiamo queste storie quindi il vangelo di giovanni dico cose già note ma un ripassino penso vada bene è tra i quattro vangeli quello che è stato definito mi piace molto sto aggettivo un vangelo indomabile bella è sta roba cioè cosa vuol dire vangelo indomabile io l'ho capito così è un americano che ha questo titolo di un piccolo commento tradotto dalla claudiana di torino vangelo indomabile vuol dire questo se tu entri nel vangelo di giovanni e presumi di afferrarlo tutto a ti scappa via cioè capiamo qualcosa ma è molto molto più quello che ci sfugge io ricordo quando era il biblico c'era il mio professore che diceva se hai capito una cosa del vangelo di giovanni cercane subito un'altra come dire un vangelo stratificato un vangelo non vorrei essere frainteso in questo senso simbolico cosa vuol dire simbolico vuol dire che dentro un significato la pesca è la pesca poi siamo sul lago si butta le reti si tirano sui pesci sì però giovanni non si accontenta di dire che due vanno o tre vanno o sette vanno a pescare perché quella pesca lì diventa simbolo della missione ecco solo un esempio per dire come è un vangelo affascinante riusciamo a cogliere qualcosa io riesco spero di capire qualcosa non tutto quello che riesco a capire ve lo consegno e poi ciascuno possa andare avanti però partirei da qui convinti della bellezza ma anche un po della imprendibilità di questo quarto vangelo come si si chiama il vangelo del presbitero così lo chiamava il cardinal martini cioè del cristiano maturo a un certo punto martini aveva fatto tutta una scaletta partendo dal vangelo di marco poi matteo poi luca poi giovanni dice quando tu a una persona che non ancora o muove i primi passi della fede dai un vangelo non dare giovanni dai marco giovanni arriva dopo un cammino allora questo per dire che alcune cose ci saranno chiare altre più misteriose ma quello che è chiaro è già sufficiente è prima cosa la seconda annotazione è il il metodo che però sapete cioè il metodo è io cercherò proprio spero facendo onore al nostro grande maestro don bruno maggioni di seguire il testo del vangelo e di collegarlo con altri brani del vangelo dove attenzione a questa cosa che è importante quando noi leggiamo un testo è noi occidentali forse siamo un po troppo preoccupati di dire ma come sono andate le cose il significato immediatamente storico ma la maddalena cosa ha visto si è voltata di qua si è voltata di là cioè che cosa è capitato calma i racconti biblici ci sono dati non anche per rispondere a questa domanda ma soprattutto per dirci che cosa puoi incontrare o chi può incontrare attraverso questo testo quindi non che cosa è successo ma che cosa produce in te questo testo allora tutti siamo lo stesso livello non abbiamo difficoltà perché siamo tutti davanti a questo brano che possiamo capire ciascuno con la propria attenzione quindi non tanto che cosa è successo ma che cosa mi comunica mettiamola così in sintesi questo episodio bene allora abbiamo il foglio queste due le premesse vangelo indomabile non solo che cosa è successo ma che cosa il che cosa ci comunica questo giovanni al capitolo 20 e lì sul foglio che avete che il manifesto bellissimo che è stato fatto trovate giovanni 20 11 18 io la prendo un po lontana cioè la prendo proprio all'inizio del capitolo perché la prima menzione della maddalena è in giovanni 21 leggo la premessa maria maddalena al sepolcro il primo giorno della settimana maria di magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro corse allora e andò da simon pietro e dall'altro discepolo quello che gesù amava e disse loro hanno portato via il signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto allora cominciamo a segnare una prima cosa fondamentale che vale per tutti gli incontri che faremo non solo per quello di stasera ma anche soprattutto settimana prossima il primo giorno della settimana è il giorno dopo il sabato e la domenica perfetto allora questo è il grande quadro nel quale si muove il vangelo di giovanni nel capitolo 20 tutto quello che succede qui succede di domenica e l'occhio strizzato ai lettori oramai cristiani come dire cari cristiani l'esperienza del risorto si verifica soprattutto nel giorno del signore la domenica eccola questa donna maria di magdala magdala è un paesino sulla costa occidentale del lago di tiberiade migdala in ebraico vuol dire torre quindi maria di magdala magdala è il nome del paese da cui la maddalena va al sepolcro anche qui magari sono sicuramente tantissime cose note voi fate finta di non saperle così io sono tutto contento ma immagino che sappiate quasi tutto se non proprio tutto il sepolcro cosa vuol dire il sepolcro nel primo secolo in gerusalemme tra l'altro è un giardino interessante il vangelo di giovanni il luogo cemiteriale chiamato giardino il sepolcro cos'è una grotta diciamo genericamente no dove davanti si metteva una pietra benissimo ecco qua che va questo è il sepolcro è dove dove maria di magdala va al mattino quando era ancora buio giovanni dicevo prima a un debole tra l'altro per luce tenebre no per quello che io sono la luce del mondo dice gesù oppure giù da uscì ed era notte quindi questa maddalena che va al sepolcro dove si vede non si vede rappresenta molto perché poi vedremo che questa donna è una donna in carne d'ossa ma è anche molto di più è la comunità cristiana eccetera eccetera comunque qui si vede non si vede però vede qualche cosa vede che la pietra è stata tolta dal sepolcro questo è un classico di tutti i racconti pasquali cioè queste donne beh in giovanni c'è solo la maddalena in marco quello che abbiamo letto la notte di pasqua c'è la maddalena c'è maria di ioses o di o di giacomo salome queste donne vanno lì hanno una gran preoccupazione come la maddalena e però la tomba è già aperta la pietra è tolta dal sepolcro questo basta maddalena per capire che è successo qualcosa non ci pensa su un istante torna va da chi va è interessante questa cosa va da due personaggi importantissimi per il vangelo di giovanni ma il primo per ogni vangelo cioè pietro l'altro per il vangelo di giovanni il vangelo di giovanni ha questa figura il discepolo che gesù amava attenzione dove il discepolo è oggetto dell'amore di gesù non è soggetto è colui che riceve l'amore è una bellissima figura nel solo nel quarto vangelo avete questa definizione secondo alcuni la discussione molto aperta sarebbe niente meno che l'evangelista secondo altri pietro è l'istituzione giovanni è il carisma l'istituzione il carisma comunque due personaggi decisivi per la comunità come dire la maddalena si interfaccia subito con la comunità di fronte a questa esperienza che ha fatto va da simon pietro dall'altro discepolo e che cosa dice ma dice una cosa molto molto semplice cioè si accorta che questa pietra che il sepolcro era aperto senza neanche cacciarci dentro la testa dice qui c'è stato un furto hanno portato via il mio signore hanno portato via scusate il signore dal sepolcro e tra l'altro quindi un furto attenzione a questa frase e non sappiamo dove l'hanno posto perché vi dico questa cosa qui sottolineate o circondate questo avverbio dove perché il problema del vangelo di giovanni dall'inizio alla fine è cercare di capire dove è sto benedetto gesù ci torneremo anche tra un attimo la prima parola del vangelo di giovanni è che cosa cercate al discepolo anonimo e andrea cosa rispondono loro maestro dove dove abiti c'è il dove di gesù dire il dove significa l'origine significa l'identità quindi c'è un furto e non sappiamo neanche che fine ha fatto sto cadavere è bellissimo tra virgolette però ci rappresenta molto a me colpisce sempre penso anche a voi queste donne che vanno appena male che sono andate le donne se noi i discepoli neanche fatto il funerale a gesù così coraggiosi c'è voluto giuseppe darimatenico demo se no sto povero signore almeno c'erano le donne che fanno tra i d'union però anche le donne che vanno a sepolcro come in questo caso questo si chiama il caso classico di ironia giovanea cioè vanno con un'attesa e che è il contrario di quella che l'intenzione cioè l'attesa è loro hanno l'idea di fare compiere le onoranze fiumebre giusto e invece il signore risorto non lo vedono neanche col binocolo hanno in mente soltanto questa cosa qua oppure non si meravigliano di poter dire non si meraviglia maddalena di dire qualcuno il signore l'ha portato via ma che gli venga in mente che possa essere risorto neanche per sbaglio quindi vuol dire che non è così scontato quando noi diciamo ma com'è il signore come sarà la risurrezione faccio fatica a credere la risurrezione tutte queste cose che tante volte ci diciamo no penso anche in verità ma sono state le esperienze delle origini non è mai stato facile fin dalle origini allora qui vi ho messo lì un intermezzo un intermezzo proprio nel vero senso della parola cioè queste righe non riguardano la maddalena però già che ci siamo così leggiamo tutto la metà del primo del capitolo 20 allora che cosa sortisce l'annuncio di maddalena hanno portato via il signore non so dove l'hanno posto vabbè leggiamo soltanto pietro esce insieme all'altro discepolo si recano al sepolcro correvano insieme tutti e due strana sta cosa qui la corsa ma l'altro discepolo corse più veloce di pietro e giunse per primo al sepolcro cosa ci interessa c'è una gara al sepolcro cioè le piccole olimpiadi di pasqua ci starà dietro un significato cioè arriva prima giovanni il discepolo amato si chi no vide i teli posati là ma non entra non entra chi entra giunto intanto simon pietro che lo seguiva entrò nel sepolcro osservò i teli posati là i teli sono le bende funerarie e il sudario che era stato sul suo capo non posato là con i teli ma avvolto in un luogo a parte qui san giovanni crisostro che io adoro perché già sempre di quelle genialate dice si capisce che non che non è stato rubato perché se era stato rubato avrebbero portato via tutto quindi invece ecco il sudario e i teli allora entrò anche l'altro discepolo quindi arriva prima il discepolo amato ma non entra entra pietro ma chi crede l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette qui c'è tutta la discussione di che cosa ha visto ma questo sarà di un'altra volta se no diventiamo troppo meticolosi comunque vede e crede il vi dico soltanto un'espressione bella di un padre gesuita che era mollà che diceva il discepolo amato ha la chiaroveggenza dell'amore cioè è capace di cogliere da questi segni che sono i teli che sono il sudario qualche cosa di che gli richiama la risurrezione infatti non avevano ancora compreso la scrittura interessante l'evangelista sapete questa si chiama l'intrusione ogni tanto san giovanni non ce la fa entra nel suo racconto e ti deve un po come dire prendere per mano e dire guarda è capitato così ci sono c'è voluta sta corsa al sepolcro perché se avessero avuto in mente bene la scrittura invece non l'avevano ancora compresa che cioè doveva risorgere dei morti finale i discepoli perciò se ne tornarono di nuovo in casa che belli bei pacifici cioè qui e vide e credette e ci sono dei salti in questo testo che fa non può pensare invece arriviamo la nostra maddalena tutti sono a casa invece e questo invece molto forte è maria stava all'esterno vicino al sepolcro stava così fa venire in mente stabat stesso verbo allora c'è una madre che sta davanti alla croce c'è una maria che sta mentre i due scappano scappano corrono a casa vanno a casa lei sta sta all'esterno vicino al sepolcro e piangeva mentre piangeva allora questo è il come dire che cosa si vede dell'anima di maddalena le lacrime sono in qualche maniera la concretizzazione di rendersi visibile del suo amore per questo signore che non trova allora il pianto il pianto è certamente vi trovate scritto hanno questo lutto questa senza consolazione e qualcuno so se conoscete luciano manicardi monaco di bose ha molte riflessioni su questo tema il tema delle lacrime e facendo il verso a un filosofo ebreo di nome derrida ma poco importa dice gli occhi chissà se non sono stati fatti più che per vedere per piangere e dice tutta la un bellissimo racconto su un cieco che piange non vede ma sa piangere e tra l'altro è la situazione di maddalena che queste lacrime non le permettono tra l'altro una visione comunque il pianto è il segno di amore si china verso il sepolcro e cosa vede vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era posto stato posto il corpo di gesù allora che gli angeli girino a pasqua non fa problema eh gli angeli della pasqua esseri celesti messaggeri normalmente gli angeli però negli altri vangeli hanno la funzione del cosiddetto angelo interprete cosa vuol dire angelo interprete vuol dire tu non capisci sta cosa ma te la spiego pensate il giovane vestito di bianco del vangelo di marco qui invece questi angeli di fronte ai quali poi vedremo maddalena non si scompone passatemi la battuta marcano il territorio sapevano perché io mi sono sempre chiesto ma cosa vuol dire che uno è dalla parte del capo e l'altro dei piedi quindi era lì prima sono tutte domande che a cui non c'è risposta però ho trovato vi ho messo nel nella nota questa ottima biblista una donna di palermo questa marida con nome un po impronunciabile ma si chiama marida nicolaci nel suo commento fa sta interpretata che vi ho messo sul foglio guardate lì giovanni se magari leggiamo così non ci disperdiamo richiama la tradizione sulla visione angelica avuta dalle donne ma trovate scritto vengono dall'estere pensieri vengono si attribuisce un'altra funzione primo la descrizione della loro posizione la loro posizione fisica cioè uno parte del capo l'alta dei piedi mi ha colpito sta cosa evoca quella dei cherubini l'uno di fronte all'altro ai lati il propiziatorio il coperchio dell'arca dell'alleanza il corpo di gesù è il nuovo tempio per san giovanni quindi questi due angeli in qualche maniera segnano il perimetro di quello che era lì c'era il corpo di gesù e quando non so se vi ricordate è la terza domenica di quarisima di quest'anno abbiamo letto l'evangelo di giovanni gesù che purifica che il tempio quando gesù dice nel vangelo di giovanni distruggete questo tempio e io in tre giorni lo farò risorgere e parlava del tempio del suo corpo del chi guardala qui il corpo di gesù il corpo di gesù non è più nel sepolcro è diventato dopo tre giorni lo farò risorgere il nuovo tempio allora qui è il richiamo a questa a questa dimensione essi le dissero donna perché piangi la domanda sul pianto trovate scritto quando uno vi fa una domanda anche la domanda più semplice no come stai possiamo rispondere bene benissimo quello classico dipende però ogni ogni di per sé ogni domanda è un è un chiavistello cioè ha lo scopo di aprire di farti guardare dentro di aprire quindi donna perché piangi trovate scritto è un richiamo alla consapevolezza e alla ricerca interiore che cosa ti fa piangere bella questa domanda che cosa ci fa piangere e maddalena risponde ripeto tranquilla come se parlasse con il vicino di casa però attenzione cosa dice qui c'è un aggettivo possessivo molto importante quando arriveremo alla fine verso un quarto alle nove hanno portato via il mio signore questo si chiama aggettivo possessi bravissimi possessivo vuol dire che questa maddalena pensa che questo gesù sia soprattutto sia suo e soprattutto suo perché questa è l'unica variante e non sopra c'era un pur l'orale non sappiamo qui c'è un non so perché lei quindi attenzione tenete d'occhio adesso questo anche questa particolarità come la maddalena si relaziona dal punto di vista affettivo con il signore gesù poi andiamo avanti detto questo cioè appunto hanno portato via il mio signore si voltò indietro e vide gesù in piedi ma non sapeva che fosse gesù ma qui non ci meravigliamo perché i discepoli di emmaus ci stanno mezzo capitolo del vangelo di luca luca 24 senza accorgersi quindi è un classico è un classico perché dicevo prima qualche problema con la risurrezione penso ce l'abbiamo tutti almeno a livello non di fede ma di linguaggio penso sicuramente per cui le grandi trovate dei biblisti o dei teologi ti dicono è lui e non è lui cioè certamente c'è un'identità è lo stesso signore di prima però se lo vedremo settimana prossima se passa attraverso le porte se non si riconosce a prima vista vuol dire che ma non abbiamo altri strumenti se non questi per dire c'è un'identità e insieme una trasformazione però il mancato riconoscimento trovate lì non meraviglia proprio per questa nuova condizione del risorto gesù le prime parole pone alla maddalena due domande precedute da questa donna donna nel vangelo di giovanni le parole sono poche è un vangelo quando si vuole fare insegnare il greco a qualche studente particolarmente volenteroso della facoltà il vangelo che gli si dà non è non è il vangelo di marco da questo punto di vista ma il vangelo di giovanni perché giovanni ha circa un migliaio di parole a fronte 5 6 mila del vangelo di luca il lessico è poverissimo e anche molto si dice paratattico cosa vuol dire e e e quindi parole poche ma ma non a caso che questa signora maddalena venga chiamata donna e subito ti fa mi dire in mente qualcosa maria maria sotto la croce donna ecco tuo figlio o a cana che c'è tra me e te parte anche la samaritana allora ad esempio consultavo stamattina un commento di un italiano molto bravo si chiama renzo infante che dice quando san giovanni indica usa la parola donna come è nei confronti di maria sotto la croce indica un personaggio singolo ma anche una figura si dice corporativa cioè questa donna rappresenta anche altri rappresenta la comunità rappresenta quindi maria maddalena questa è la bellezza no e lei prima di tutto è una donna in carne ed ossa è immagine di una ricerca ecclesiale e in qualche maniera visto che siamo umili penso non ci identifichiamo direttamente con il signore gesù magari un momento di autostima e c'è il sa è di mi sento gesù forse meglio sentirsi nei panni di maddalena la quindi donna è la comunità e lei è la comunità allora dentro questo primo intervento di gesù due cose la prima la ripresa della stessa domanda degli angeli perché piangi e trovate scritto sul foglio però questa stessa domanda viene amplificata interrogando la donna non gli dice semplicemente perché piangi che cosa ti fa piangere ma gesù è un balos è cioè gli dice chi cerchi se io ti dico così vuol dire che ho già capito che stai cercando e stai cercando una persona bravissimo però questo vi scrivo lì sotto poi lo riprenderò alla fine come due punti conclusivi la domanda sulla ricerca chi cerchi chi stai cercando è il tema della ricerca vedete lì quasi in fondo alla pagina decisivo nel vangelo di giovanni perché ve lo dicevo prima la prima domanda che gesù pone ai suoi questo ve lo dicono se voi leggete maggioni qualsiasi commento quando i due seguono no si mettono a seguire gesù gesù si volta e che cosa dice che cosa cercate ve l'ho segnato lì vedete lì 1 38 e beh c'è una bella differenza i primi due che cosa gesù è aperto a 360 gradi dice a questi due che cosa cercate ma poi alla fine questo che cosa diventa un chi si passa da un genere uno può dire qual è il senso della vita quali sono i tuoi desideri cosa ti muove bla 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 e poi capisci che alla fine del vangelo tutto questo si concentra in un volto che è il volto di gesù quindi si passa da un che cosa un chi misconoscimento giriamo la pagina bello vuol dire che siamo a metà ella pensando che qui mi spezza sempre sta cosa dopo vi dico perché pensando che fosse il custode del giardino gli disse signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderla prima di entrare nel testo in tempo di copito mi è successa questa cosa l'ho già raccontata perché mi fa troppo ridere ancora lì a uggiate c'è una casa di riposo c'era una signora ricoverata e quando si poteva dopo passato il covid si poteva entrare a trovarla compiva gli anni 80 anni allora vado con ho preso una pianta di quelle porto una pianta vado lì in portineria dico vorrei parlare vorrei trovare l'angela benissimo tut 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 si angela c'è qui il fiorista beh io lì mi sono sentito veramente ho detto se gesù è stato scambiato per io che non sono gesù almeno il fiorista mi sembrava una bella una bella proporzione insomma no vabbè a parte questo era però veramente dopo questo che è tanto del paese ciao don marco mi sono scuffondita fa niente cioè meglio allora pensando guardate però qui che cosa succede la cosa bella qual è rispetto al tema che cerchiamo di teniamo d'occhio la maddalena qui che donna viene fuori qua non tanto che che non riconosce quello ma la grinta signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo mi sono questa deformazione professionale sono andato a verificare nel testo nel testo originale perché ho detto qui ma è maciste ma vado a prenderlo e infatti non sapevo ma ho visto proprio stamattina sta roba nel testo originale c'è il il verbo che dice prendere sulle spalle questo bastazzo in greco che vuol dire proprio aero e prendo non so un tombino lo tiro su piuttosto che a sollevare questo invece andare a prenderlo vuol dire caricarsi in qualche maniera sulle spalle per cui c'è la sfumatura anche dello sforzo della della grinta per questo che dico è una donna tutt'altro che smorta o come è stata poi definita in tante raffigurazioni una donna tenace una donna che vuole arrivare allo scopo e ci arriverà gesù le disse maria ecco la voce vi ho messo lì la voce del buon pastore che chiama per nome questa è già un'interpretazione cioè allora se noi prendiamo il vangelo di giovanni nel capitolo decimo nel capitolo decimo all'inizio quando gesù si paragona al pastore delle pecore che cosa dice il guardiano gli apre e le pecore ascoltano attenzione questa cosa la sua voce e gli chiama le sue pecore ciascuna per nome chiama le pecore ciascuna per nome e le conduce fuori e quando ha spinto fuori tutte le pecore cammina davanti ad esse le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce allora i grandi cioè i grandi commentatori di giovanni sono quelli che leggono il vangelo col vangelo cioè cercano di far dialogare le pagine del vangelo dicono questo sentirsi chiamata per nome si sta verificando quello che nella similitudine era detto cioè il pastore chiama le pecore per nome guardate lì cosa trovate sul foglio la situazione richiama alcuni elementi simbolici ecco qui della similitudine del buon pastore i versetti 2 e 4 sono quelli che vi ho letto questo simbolo gesù pastore che chiama i suoi si compie ora nel caso di maria maddalena poi sarà stato il timbro della voce sarà ecco poi c'è un mistero però il fatto che è il nome è il sentirsi chiamata per nome riconosciuta nella sua individualità il nome non spendiamo molte parole ma nella cultura biblica sappiamo cosa vuol dire no cioè non è semplicemente un'etichetta intercambiabile ma è l'identità e quindi sentirsi chiamata per nome vuol dire sentirsi riconosciuta e infatti sì grazie alla familiarità col maestro a questo punto è il riconoscimento ella si voltò gli disse in ebraico rabbuni che significa maestro se caso mai non sapessi l'ebraico dice san giovanni molto lo traduco rabbuni che significa maestro che per la verità è un maestro un po particolare perché il in ebraico maestro si dice rabbì come normalmente rabbuni questo c'è soltanto due volte in tutti i vangeli qui e nella scena di bartimeo secondo alcuni si è un maestro però un maestro un po al quadrato tra virgolette qualcuno addirittura intravede dietro a questo rabbuni il titolo di di signore non nel senso del signore glorificato ma un titolo certamente di onorificenza però guardate lì sul foglio io preferisco quello che trovate lì che viene da un altro grande padre gesuita che è il padre della poteri sicuramente i miei confratelli lo conoscono sicuramente questo gesuita che dice chiamandolo maestro maestro mio maria vede nel risorto ancora una specie di gesù rianimato sì ma terreno e mortale come lazzaro cioè si mette in relazione con gesù come prima questo è un classico no chiamandolo rabbuni come era e allora qui scatta come era prima quando camminava sulla strada di palestina e allora questo punto forse un po di più possiamo capire quel famoso noli metangere gesù le disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al padre arriviamo al vertice ma va dei miei fratelli e di loro salgo al padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro prima di entrare nel commento che cosa sta succedendo qui che questa donna per il suo amore per la sua tenacia per tutto quello la sua ricerca poi ci tornerò ottiene dal signore risorto niente meno che un incarico un mandato perché sentite no è qui che viene detto questa cosa allora questa donna è incaricata di un compito ben preciso però ci sono due cose da mettere in risalto la prima con la famosa noli metangere una modalità diversa di relazione cosa vuol dire non mi trattenere il noli metangere quello da proprio l'idea del non metto che che me guaste come che è quella cosa lì no cioè sembra un gesù un po schizzino per favore guanti se no mi sporchi non è questo è cosa vuol dire la traduzione meno male che adesso è diventato non mi trattenere non intrattenerti con me sottointeso come prima della risurrezione perché il rischio il rischio di maddalena è di rieditare di editare di nuovo la modalità il risorto è semplicemente qualcuno che è tornato è diverso non è lo stesso come lazaro trovate scritto no rianimato per cui qui da un lato è il compimento quel non mi trattenere non relazionarti così con me è il compimento di quel cammino che maddalena deve compiere per riconoscere la differenza che c'è tra il gesù di nazareth che cammina per le strade della palestina e il signore risorto ma fermiamoci perché questo forse quello che ci interessa un po di più seppure di corsa su quello che è l'incarico crocino direbbe il nostro don rinaldo valpolini la frase non sono ancora salito al padre quindi dov'è che è gesù è risorto per quello vi lascio come compito a casa di leggere lentamente poi se non è chiaro me lo chiedete settimana prossima il punto 2 che trovate sul foglio che a me pare per quello che ho letto in giro non molto ma è la spiegazione che ho trovato più sensata dal con nel commento del don bruno quindi quel pezzettino lì in centro ve l'ho messo anche un po più piccolo per dire lo lascio come compito a casa fermiamoci invece sull'incarico un compito decisivo che cosa deve fare maddalena deve fare due cose prima deve andare a cercare quelli che qui vengono definiti i fratelli di gesù ora se già nel prologo del vangelo di giovanni si diceva che siamo figli ha dato il potere diventare figli di dio quali quelli che l'hanno accolto la fraternità è una carta giocata qua alla fine ed è una carta perché giocata alla fine perché tu così ti puoi paragonare con quel fratello che ha camminato per 19 barra 20 21 capitoli quindi fratello va dai miei fratelli quindi questo gesù che si pone davanti ai suoi discepoli come il fratello certamente la fraternità a che fare evidentemente con la paternità però c'è un sapore tutto particolare di cordialità di confidenza di parentela tutto quello che sta dietro la parola e che cosa deve arrivare a quei discepoli che con la bacchetta magica sono diventati i fratelli non genericamente i discepoli sono i discepoli fratelli l'uno non esclude l'altro e che cosa deve dire di loro ricordate prima vi ho detto ma il cruccio del vangelo di giovanni è sapere dove è gesù siamo partiti dicendo hanno portato via il mio signore e non so dove l'hanno posto risposta salgo al padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro guardate lì sul foglio un compito decisivo 3.2 maddalena deve annunciare dove è gesù la relazione con il padre salgo al padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro la relazione con il padre è il dove è gesù in quanto figlio e qui secondo qui sono soprattutto gli autori medievali tipo san bernardo ma uno che si chiama gulielmo di santi harry che già dicevano quella famosa domanda dove dimori la prima domanda che i due fanno a gesù quando lui dice che cosa cercate dove dimori vedete venite vedrete già gli autori medievali quella domanda lì dicono dove dimora gesù dimora nel padre ma qui si vede in modo esplicito con un poi trovate scritto a questa relazione associa anche i discepoli salgo al padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro anche proprio stamattina ho trovato in questo commento dicevo prima questo renzo infante dice questo dio mio dio vostro padre mio e padre vostro può essere letto o in modo disgiuntivo cosa vuol dire un conto è il padre per gesù che per natura il figlio e noi che siamo figli per adozioni quindi qualcuno dice dio mio dio vostro padre mio si vuole marcare una differenza disgiuntivo per altri questo padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro questo autore dice può essere anche invece seconda interpretazione è un modo di parlare aggregativo e lo spiega così quel padre mio che è anche il padre vostro quel dio mio che è anche il padre vostro ci stanno tutti e due sono vere tutte e due le cose perché è vero che gesù è figlio per natura e noi per adozioni ma c'è anche questa ultima cosa e poi faccio due punti conclusivi e finiamo l'annuncio questa dopo aver ascoltato questo maria di magdala eccola qua andò quello che avete scritto lì sulla lavagna maria di magdala l'ultimo versetto andò ad annunciare ai discepoli ho visto il signore e ciò che le aveva detto sant'ommaso da qui notando per cittarne uno definisce maddalena come trovate lì apostola apostolorum c'è una traduzione ancora prima insomma ma è qui davvero è l'apost è l'inviata perché in greco maria di magdala andò e proprio c'è il participio dell'evangelizzatrice che finora era un compito tipicamente maschile allora diventa davvero l'apostola quella che è inviata agli apostoli e che cosa dice maddalena attenzione qui c'è una cosa il vertice ho visto il signore non più non dice più il mio signore non dice neanche maestro allora qui è una cosa da sapere ma sapete già nel linguaggio dei cristiani della prima ora diciamo così in primi san paolo ma vale un po' per tutti i cristiani il curios il signore equivale a gesù risorto e vivo dire ho visto il signore è come in altre parti del nuovo testamento è apparso si è mostrato il signore oppure è risorto quindi questa è la formula pasquale per eccellenza maria usa vedete in fondo alla pagina il termine più appropriato per dire la pasqua gesù è il signore non il mio signore neppure il maestro bene a conclusione di questa di questa lettura io vorrei fermarmi su due aspetti se volete due due possibili approfondimenti che però tirano tirano tirare insieme quello che quello che ci siamo detti il primo che butto là come possibile poi approfondimento è Maddalena come una donna in ricerca del suo signore ecco questa è l'icona se volete no l'immagine di di Maddalena come colei che al termine del Vangelo cerca il signore e a me pare che questa ricerca si possa connotare per alcune caratteristiche beh mettiamo in fila le cose che abbiamo visto la prima cosa che abbiamo visto è questo stare in pianto quindi a me pare che c'è una ricerca del signore che si coniuga con il pianto che abbiamo detto il pianto dell'amore con l'affetto con l'amore dite come volete del signore secondo una ricerca tenace tenace al giardiniere che dice vengo io te lo tiro altro che un'orenze funebri cincera dalle nostre parti che non so cosa sia comunque quindi sistemo io ma soprattutto terza cosa quindi una ricerca amorosa una ricerca tenace una ricerca del volto del volto di Cristo sempre da purificare questa è l'intuizione del padre della poteria cioè cosa vuol dire sempre da purificare prima pensa che sia il suo signore poi che è un maestro poi che è il signore chi di noi può dire di possedere il signore è lui che ci attrae ma è sempre avanti è sempre un cammino ecco la ricerca se noi diciamo ricerco il tuo volto vuol dire che questo volto l'abbiamo incrociato ma nello stesso tempo ci scappa via e se volete questo primo aspetto ma da lei la immagine di ricerca non l'ho non ho sfiorato perché bisogna fare un altro un altro giro ma potete farlo voi questo personaggio che cerca e cerca nella notte e cerca è la sposa del cantico dei cantici e allora qui come giustamente mi suggeriva Don Italo all'inizio la figura di Maddalena ancora diventa più più affascinante diventa l'immagine della sposa nei confronti dello sposo che è Cristo questa immagine è così tradizionale nella cultura cristiana allora prima cosa la ricerca secondo l'incarico e qui beh anzitutto anche qui solo tre cose la grandezza la libertà di Gesù di incaricare una donna ma non perché ma sapete allora no cosa si si pensava che valore o che non valore avesse la testimonianza femminile a una donna viene dato il tesoro più prezioso che è l'annuncio della risurrezione quindi primo secondo questo tesoro stiamo attenti a come vengono chiamati i destinatari quei miei fratelli anche questo c'è un destinatario e nella nel Vangelo non ci sono non è che Gesù dice date dei miei sudditi o dei miei schiavi lui che ha detto nel Vangelo di Giovanni vi ho chiamato amici qui aggiunge addirittura fratelli quindi il tesoro nelle mani di una donna l'uditorio sono i fratelli il contenuto dell'annuncio è la Pasqua è la risurrezione poi dentro qui ci mettiamo tutto eh ma tutto non nel senso che che diciamo quello che vogliamo anzi il contrario come credenti siamo custodi siamo chiamati ad essere custodi di questa notizia originale trasformante tutte quelle cose belle che avete sentito il giorno di Pasqua e che sentirete nel tempo pasquale ma il cristiano il discepolo la comunità Maddalena comunità non porta ci mancherebbe se stessa ma non porta neanche chissà cosa porta questa notizia il signo che qui è l'origine di tutto quel ben di Dio che noi poi sappiamo essere la vittoria sulla morte la speranza la gioia ecco non lasciamoci non dimentichiamoci via di questo contenuto quindi riguardo l'incarico chi è inviata una donna a chi per dire cosa ecco io mi fermo qui e vi ringrazio e adesso come ha detto giustamente la sua Rivana però prima c'è il foglio